Due ore di conferenza stampa di inizio anno per la Lega per chiarire l'attività del Governo e della Regione. Riguardo ai fondi per l'alluvione, Bottacini invita all'ottimismo. Io sono assolutamente fiducioso che i soldi arriveranno. È chiaro, bisogna avere un po' di pazienza, tutta la parte di contabilità, burocrazia che c'è sempre. Abbiamo chiesto una serie di idee, tutte le possibili e immaginabili. Alcune sono state concesse, qualcun'altra no. Però insomma, contiamo di dare risposte come abbiamo cercato di fare nei primi due mesi. Continueremo a farlo anche nei mesi successivi. Io invito all'ottimismo perché voglio essere ottimista e credo molto nella mia terra. Gidoni ha parlato del piano sociosanitario recentemente approvato. Ribadisce quanto previsto dal precedente. Ovviamente ha avuto alcuni passaggi di aggiornamento e adeguamento alle nuove esigenze della sanità veneta. L'importante è che nel piano sociosanitario più volte sia riportata le necessità sia della montagna veneta, quindi quella nostra velunese e ovviamente anche quella delle zone più marginali tipo il Polesine. Quindi una maggior sensibilità nel piano a favore delle aree meno forti della regione, garantendo ad esse quella qualità dei servizi che deve essere uniforme su tutto il territorio regionale. Per Badole la finanziaria ha premiato gli amministratori locali. Gli enti locali sono premiati da questa finanziaria con 400 milioni di euro che sono pronti subito disponibili da usare. Quindi forza sindaci usateli che è una buona occasione per il belunese. Sempre l'attenzione verso gli enti locali, in particolare 250 milioni di euro per tutte le province e poi lo sblocco di quello che è il famoso patto di stabilità degli avanzi e amministrazione dei vari comuni, chi ne aveva. Saviane puntualizza le responsabilità riguardo le multe ai cittadini italiani con automobili con targa estera. Io sono stato informato e insieme al mio collega Mirko Badole stiamo cercando di poter vedere quali saranno le soluzioni. Ovviamente non è una cosa che si può risolvere in pochi giorni, come alcuni stanno dicendo. A gennaio ci impegneremo per affrontare la situazione e trovare le possibilità di soluzione. Il segretario della sezione di Belluno conferma la fiducia degli iscritti e degli elettori. Il trend positivo a livello nazionale si è riscontrato anche a livello cittadino di Belluno e anche in provincia. I militanti e gli iscritti comunque sono contenti dell'attività di governo e riscontriamo una positività di quanto il governo sta portando a casa tramite i nostri eletti a Roma.